Mirko Petrilli, 28 anni, professione, contadino, è il vincitore della tredicesima edizione del Grande Fratello. Entrato da subito nel cuore del pubblico, grazie alla sua spontaneità e alla sua simpatia, non è mai stato messo in nomination dai compagni, se non nelle fasi finali quando la nomination era obbligatoria. Per Mirko il sogno si è realizzato. Il pubblico da casa ha potuto chiaramente vedere l'emozione e le lacrime nei suoi occhi durante gli ultimi minuti nella casa, ma anche e soprattutto quando Alessia Marcuzzi, durante l'ultimo drammatico freeze, gli ha mostrato la busta del vincitore con scritto al suo nome. Solo seconda, Chicca, la bancaria milanese, che in compenso ha potuto riabbracciare il suo Giovanni. E dire che il vincitore del GF, secondo una notizia che iniziò a girare poco dopo l'inizio del reality, non avrebbe neanche fatto i provini ma sarebbe stato scelto direttamente dalla redazione del programma. A dirlo il fratello in un'intervista al settimanale Top. A quanto pare Mirko sarebbe stato avvistato con gli amici in un bar e poi richiamato a pochi giorni dall'inizio del programma. Quando si dice il destino!